Il sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, parla di giornata storica per la città. Si è tenuta infatti l'inaugurazione della nuova strada denominata Variante delle Stazioni, il tratto che collegherà la stazione ferroviaria alla Statale 17 e alla Fondo Valle Sangro. La variante è nata grazie a un accordo sottoscritto il 27 settembre del 2019 tra il comune di Castel di Sangro, La società tua e la regione Abruzzo è stata inaugurata alla presenza del presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, del dirigente regionale Verrecchia, del dirigente della tua Enrico Dolfi e di altre autorità locali. Successivamente si è svolta una conferenza stampa nella sala consigliare di Castel di Sangro proprio per illustrare i dettagli dell'importante progetto strategico addetto Caruso. Sì, definiamola un'opera strategica perché collega due parti importanti della città ma collega anche due arterie stradali fondamentali per il traffico nazionale, cioè parliamo della Statale 17 e della 652, la cosiddetta Fondo Valle Sangro. Quindi ha una funzione strategica non solo da un punto di vista urbano ma anche extraurbano, ma fa anche compie egregiamente anche un'azione di ricucitura di due tessuti urbanistici rimasti purtroppo divisi da quella che era l'infrastruttura ferroviaria preesistente alla realizzazione di cui oggi abbiamo inaugurato il nuovo tratto. Negli ultimi anni abbiamo fatto molto per accelerare i tempi dei lavori, c'è sempre stata grande collaborazione con l'amministrazione comunale di Castel di Sangro, ha aggiunto il presidente Marsiglio. 30 anni di lavoro, di fatica in cui si è attesa questa possibilità. I lavori sono andati avanti speditamente, abbiamo oggi consegnato questa strada, riunificato le ferrovie nell'attesa di realizzare il sogno di riaprire completamente la ferrovia sangritana, l'antica sangritana per ricollegarci al mare e costruire un anello meraviglioso che dal mare passa per Castel di Sangro, Roccaraso, la montagna, quindi la transiberiana che scende a Sulmona e completare quindi un percorso non soltanto turistico, anche con l'obiettivo di dimostrare che l'infrastruttura ferroviaria non è un ricordo del passato, ma è il futuro del trasporto e della mobilità sostenibile in Abruzzo. Però è importante intanto realizzare le infrastrutture a servizio, le stazioni, le strade di accesso, i parcheggi, come si è fatto qui a Castel di Sangro, e costruire le condizioni di partenza per poter tornare a sfruttare appieno il potenziale della rete ferrata.